Quando andiamo a Messa è come se andassimo al Calvario, lo stesso. Noi ci permetteremo di chiacchierare, di prendere fotografie, di fare un po' lo spettacolo? No, perché è Gesù. Noi sicuro saremmo nel silenzio, nel pianto e anche nella gioia di essere salvati. Quando noi entriamo nella Chiesa per celebrare la Messa, pensiamo a questo. Entro al Calvario dove Gesù dà la sua vita per me e così sparisce lo spettacolo. Spariscono le chiacchiere, i commenti e queste cose che ci allontanano di questa cosa tanto bella che è la Messa, il triunfo di Gesù. Ogni celebrazione dell'Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Il senso e il valore della Messa nella vita del cristiano sono stati ancora una volta al centro dei pensieri di Papa Francesco all'udienza generale. Il sangue del Figlio di Dio, rimarcato nella Catechesi, ci libera dalla morte, non solo dal dominio della morte fisica, ma dalla morte spirituale che è il male, che ci prende ogni volta che cadiamo vittime del peccato. Partecipare alla Messa, dunque in particolare la domenica, non vuol dire solo fare memoria di un evento passato, ma significa entrare nella vittoria del risorto, sperimentare l'amore di Cristo e divenire così capaci di donarsi senza paure.